Musica Amici sportivi di Videonola, benvenuti a questa nuova puntata del Salotto Jack, il nostro angolo d'approfondimento dedicato ai tornei che si tengono sotto l'eggida del trofeo Jack presso il centro sportivo Maracanà, nello specifico iniziamo nella nostra disamina attraverso le grafiche per la terza giornata di Serie A che è andata agli archivi. Vediamo con i seguenti risultati, Fiorentina Novara 6-3, CSK Mosca che vince con il Nola 3-0, poi Foggia Arsenal 9-5, Edux Palato, New Saints vittoria dei Gallesi per 8-3, mentre vittoria esterna è anche quella del Borussia Dortmund contro il Napoli per 10-2, Lecce, Trabzonsport 6-5, Roma-Valencia 6-4 e Milwall contro Inter 5-4 per una classifica che vede al primo posto a pari punti New Saints, CSK Mosca, Foggia e Lecce, quattro squadre che si trovano insomma a punteggio pieno, mentre invece la Fiorentina è a 6 punti, Roma-Arsenal Milwall 4, apre la parte destra della graduatoria Borussia Dortmund, Trabzonsport-Valencia e Dai Ducca 3 punti, Nola 2, Novara 1 punto, Inter e Napoli 0 punti in classifica e quindi ultimo posto, diamo una rapida occhiata anche alla classifica marcatori che vede al primo posto saldamente Guglielmo Buonauro del Lecce con 12 segnature seguito da Giuseppe Cavezza a 9, Michele Peluso a sua volta in coabitazione con Cavezza della New Saints, Luigi Iovino 8 gol, Angelo Santaniello 7 gol come l'altro Angelo sia parente del Foggia, Pasquale Manzi, Francesco Savinelli, Luigi Rollo e Luigi Fornaro a 6 segnature, è il momento di tornare in studio per presentare gli ospiti per questa prima parte di trasmissione, nello specifico c'è un tesserato del CSK Mosca, un gradito di ritorno, ciao Marco Furino, Ciao a tutti, buonasera, e a farci compagnia la nostra ala sinistra, per vedere Isidoro Tardivo, regista delle partite al Maracanà, entità che ci osserva dall'alto come ricordava un signor felice qualche tempo fa, ben ritrovata al salotto Jack. Ciao Giando, ben ritrovati a tutti quanti gli appassionati del trofeo Jack. Allora, iniziamo in questa nostra disamina, partendo magari dal basso Marco, questa settimana per il CSK Mosca una vittoria, tre punti che portano la squadra a nove lunghezze, soprattutto fanno mantenere questo treno del primo posto, mentre invece qualche squadra che non se la passa molto bene, sono il Napoli ma anche l'Inter, Marco ha un pochettino da risalire la classifica, come vedi questa Inter in queste prime giornate? Ma l'Inter si riprenderà, si metteranno in carreggiata per tornare ai posti che gli competono da anni ormai nel trofeo, sono partiti male, ci può anche stare, perché comunque hanno rivoluzionato un po' con la rosa, però a breve risaliranno la china. Mentre invece per quanto riguarda il CSK Mosca, è una gran partenza, forse la miglior partenza del CSK Mosca, qui al trofeo Jack, una stagione iniziata con un trofeo e adesso delle vittorie importanti per cancellare ciò che è stato l'anno scorso, fatto di molte insicurezze e di un terzo e ultimo posto, che poi è stato fatale per qualche mese. Sì, infatti questo dicevamo prima di partire questa stagione, che vista l'annata scorsa parlai pure col presidente Alfieri per capire un attimo le sue intenzioni, e lo dissi, cioè cerchiamo di fare un bel campionato quest'anno, e si è messo sotto col DS Mazzocchi, che saluto, e abbiamo costruito una bella squadra quest'anno, siamo partiti bene con la vittoria del primo trofeo, e il campionato sta procedendo bene, siamo partiti forti, è un buon gruppo, hanno costruito una bella squadra, penso che diremo la nostra. Isidoro, questo CSK Mosca si ritrova in un coabitazione con delle squadre costruite molto bene, ossia New Saints, Foggia e Lecce, un quartetto che potrebbe comunque prendere il largo, visti anche i risultati di questa giornata, per queste squadre che si trovano a punteggio pieno. Sì, alla fine la classifica non inganna, i numeri non ingannano, perché sono le quattro squadre che sulla carta hanno qualcosa di più rispetto a qualsiasi altra squadra. I dubbi che vertevano sul CSKA, ad esempio, era il poter attingere ad un pieno organico per qualsiasi giornata del trofeo Jack e finora ci sono riusciti a pieno e quindi è un dubbio che per me ora è stato totalmente da spazzare via. Quindi sono quattro roster che hanno pregi e difetti. C'è qualcuno, io mi sento sempre rimettere New Saints e Foggia un pochino avanti rispetto a squadre come Lecce e CSKA per un solo motivo, sono composte da gente che è abituata a masticare calcio a 5, quindi hanno uno spunto in più dettato dal conoscere profondamente la materia, cioè il calcio a 5 stesso. Magari, l'abbiamo visto proprio l'anno scorso, per esempio nelle finali con... cioè nelle fasi finali con Battista Russo, è un giocatore che è conscio dei propri mezzi, è conscio dello sport e può farti la differenza in qualsiasi minuto. Oppure lo stesso Lino Catapano lo scorso anno con l'Inter, sono giocatori che conoscono bene le dinamiche del calcio a 5 e sanno leggere la partita meglio di altri. E' per questo che Foggia e New Saints, ripeto, avendo tanti giocatori di calcio a 5, possono avere qualcosina in più ai punti rispetto a squadre come Lecce e CSKA. Forse Lecce può anche attingere dalla ampia dirigenza che si presenta ogni giornata al campo per cercare di mantenere saldamente la testa alla gara oppure può essere un deterrente tutta questa presenza sulla panchina come abbiamo visto anche nell'ultima sfida, quella più recente con il Trabzonspor? Guarda Gianno, quest'anno è un punto, secondo me, a favore del trofeo Jack perché vedo tanto coinvolgimento anche tra chi non scende in campo. Vedi per esempio il Lecce che ha una forte presidenza ovviamente con Felice Cece che è la figura storica di questo Lecce. Poi c'è il buon Raffaele che ha smesso i panni di giocatore e è diventato dirigente anche lui del Lecce. Ma di contraltare ci sono anche tante altre squadre per esempio la Roma con i fratelli Cassese. Lo stesso New Saints che ho visto oltre al buon Raffaele Lauro ho visto anche tanti altri ragazzi interessati a sposare dirigenzialmente la causa New Saints. È un trofeo che sta crescendo di livello anche sotto questo punto di vista. ed è un punto di vista importante perché maggiore è l'aiuto dirigenziale migliore è il livello del trofeo. È un altro step che secondo me a cui naturalmente arriverà il trofeo e sono segnali importanti perché ripeto qualitativamente il trofeo si alza e soprattutto avere una dirigenza vicina per giocatori che comunque devono venire a presenziare su un campo all'aperto con il mese di dicembre che si apre sempre con questi freddi glaciali è certamente un motivo di sprono in più secondo me. Anche perché c'è una piccola nota di colore che riguarda Felice Cece ormai affezionato al suo bomber rosso ricorda un po' Stiamo iniziando ad entrare ora nella fase scaramantica di Cece. Ricorda un po' il presidente del Livorno Spinelli con il suo impermeabile giallo a legare in casa del Livorno. Anche questa è una nota di colore che al trofeo Jack non ci facciamo mancare. Diciamo che tra tante figure mitologiche non abbiamo anche mitologia per il Lecce e il giubbino rosso di Patronce Cece che oramai secondo me ce lo porteremo fino al mese di aprile visto i risultati del Lecce che finora è visto anche il clima del Maracanà quindi fino ad aprile è dolore. Il clima del Maracanà è un microclima a parte che oramai quando fa caldo fa freddo quando fa freddo c'è la tempesta tropicale quando c'è la tempesta tropicale per altri paesi come Nola, Cicciano, Casamarciano invece c'è un clima quasi tropicale al centro sportivo Maracanà. È un microclima, è un microcosmo a parte per quanto riguarda il meteo e per quanto riguarda anche i personaggi che lo popolano. A proposito di esseri mitologici c'è uno che risponde al nome di Gaetano Jovino quest'anno precoce in tutto precoce nel primo gol precoce nella prima pregevolissima espulsione nata da una doppia munizione prima un fallo di mano fuori aria qui sono seguite delle proteste barbare insomma. Io vorrei sapere soltanto dal Trofeo Jack dall'organizzazione, dai fratelli Adinolfi se Gaetano Jovino attualmente è il leader in discorso per espulsioni in tutte, in tutte le edizioni del Trofeo Jack perché può cadere, possono cadere i governi possono cadere i regimi possono arrivare tempeste ma ci vuole tropicali ma Gaetano Jovino un'espulsione a campionato la prenderà sempre sempre quindi è vero forse è arrivata anche in una maniera abbastanza rocambolesca perché forse la prima ammunizione non c'era però oramai la prevenzione la fa da padrone per la classe abituale del Jack è molto probabilmente quando Gaetano Jovino fa falla è un fallo abbastanza brutto quindi qualcuno già arriva col cartellino giallo in mano tra la classe dirigenziale e il povero Gaetano è costretto a subire queste espulsioni un po' contestate da lui però obiettivamente ci sta classe arbitrale al centro dell'attenzione si dora anche perché questa settimana si archivia forse con un piccolo record per quanto riguarda le espulsioni fra Serie A e Serie B sono stati sventolati un bel po' di cartellini rossi questo qua è sinonimo di grande tensione agonistica che viene masticata al centro sportivo Maragana e nella fattispecie del Trofeo Jack quest'anno il livello si è alzato il livello si è alzato vertiginosamente nessuno più vuole fare brutta figura parlavo con l'altro giorno con il presidente Cassese della Roma parlavamo proprio di questo oggi il Trofeo Jack secondo noi secondo la ricostruzione che poi abbiamo fatto io e lui è come te lo disegni è come te lo disegni perché ci sono squadre veramente fatte di amici come per esempio il Genoa in Serie B e poi vabbè il Genoa è anche un discorso a parte perché oltre ad essere amici fraterni da una vita sono anche giocatori forti e quindi magari è l'esempio da non prendere in considerazione però prendi per esempio in Serie B un gruppo di amici come il Leicester l'Empoli oppure in Serie A il Nola sono persone che si disegnano il Trofeo Jack secondo i dettami della spensieratezza cioè vengono lì, fanno la partita vincono va bene, perdono va bene ci sono squadre come il Genoa che non vuole fare brutte figure in Serie B il Chievo in Serie B che non vuole fare brutte figure in Serie A Foggia, Lecce, New Saints e CSKA che non vogliono fare brutte figure e ovviamente questo porta a mettere tutto quello che ha un giocatore in campo anche le polemiche ci sono giocatori che abbastanza diciamo calcono abbastanza la mano sotto questo punto di vista sotto il profilo della tensione agonistica Iovino abbiamo appena citato c'è Ghetano Iovino che fa proprio della tensione agonistica il suo credo calcistico oppure giocatori di esperienza come Alfonso De Lucia per il Nola e tanti altri che sono abituati a certi regimi competitivi molto alti e quindi arrivano al campo e molte volte si trascima si va a trascimare questa tensione e gli arbitri fanno secondo me bene a dare queste regole perché anche gli altri anni proprio su questi controversi episodi arbitrali sono nati molti problemi per l'organizzazione quindi il dettame penso sia dettato ovviamente dai gemelli ad Inolfi e da Felice Paolo ad esortare appunto gli arbitri a calmare i volenti spiriti tramite i cartellini poi gli arbitri recepiscono bene e vanno a parlare molto con i giocatori quando poi la misura è colma si fa bene magari a sventurare anche un cartellino rosso in più Marco c'è da dire che quindi ci sono tutti gli ingredienti per attendere un derby del Jack quello fra CSK Musch e Trabzonsport che mai come quest'anno sarà rovente ma soprattutto d'alta classifica si auspica sì con il Trabz c'è ormai una realità storica che non vinciamo da un bel po' di anni se non sbaglio non ricordo male quest'anno cercheremo di portare di accontentare anche il presidente cercheremo di portare i tre punti a casa nel derbissimo infatti una partita che ci auspichiamo sarà molto interessante soprattutto molto spettacolare carica anche della giusta tensione agonistica come piace anche puntellare durante la settimana a Gaetano Iovino per il Trabzonsport e Giovanni Alfieri la tigre del Jack per quanto riguarda invece il CSK a Mosca se l'Inter comunque piange all'ultimo posto in classifica Isidoro il Valencia neanche ride sconfitta contro la Roma Roma che si rilancia di fatto in campionato con questa vittoria contro una squadra che storicamente non l'ha mai vista trionfare insomma allora partiamo dalla Roma perché partiamo dalla squadra che alla fine ha portato i tre punti a casa la Roma aveva bisogno di questi tre punti per continuare a riprendersi perché la Roma sotto il profilo del gioco forse ha patito solamente contro il Trabzonsport un gap troppo marcato ma per più demeriti della Roma che meriti del Trab a mio modo di vedere perché anche il Trab aveva grosse assenze la Roma aveva bisogno di questi tre punti per uscire da quella zona di bassa classifica che mai come quest'anno non merita anche se è abituata a stare sotto quel profilo la Roma negli anni ha sempre combattuto per un buon posizionamento per l'Europa League ed evitare soprattutto la retrocessione quest'anno è un ottimo organico e deve dimostrarlo veniamo invece a Valencia e Inter che stanno un po' troppo soffrendo sono due squadre che vanno totalmente registrate secondo me più l'Inter che il Valencia attualmente perché non per i valori intrinsechi il valore intrinseco della Rosa però per una semplice situazione di classifica almeno il Valencia ha tre punti li ha portati a casa l'Inter ancora ferma a zero ed è questo il più grave dei problemi attualmente serve una vittoria di riffo di raffa ma l'Inter serve una vittoria per sbloccarsi secondo me anche dal punto di vista mentale perché non è possibile ad esempio che giocatori abituati a vincere come Pasquale Testa come un possibile capocannoniere dell'anno scorso Angelo Santaniello Junior ancora deve mettere a referto la sua continuità in termini di gol addirittura gol sbagliati a metro dalla porta non è D'Angelo Santaniello questo è il sintomo di ragazzi attualmente ancora non pronti sotto il punto di vista mentale non dal punto di vista del gioco perché poi si è visto in una partita tirata come il Millu come quella col Millwall che è finita 5 a 4 il Millwall ci ha riuscito per la sagacia per quel qualcosa in più che è riuscito a mettere sotto il punto di vista del gioco a portare i tre punti a casa importante anche per il Millwall al pari diciamo come per la Roma e quindi serve una sterzata psicologica per i gemelli ad Inolfi che spero per loro arrivi il prima possibile perché sono due squadre che comunque non meritano quella posizione di classifica secondo me anche perché ormai ci sono i tifosi della Roma che neggiano a gran voce che il vero Angelo Santaniello ce l'hanno loro il talismano della Roma talismano giallorosso che finora ha portato delle segnature importanti per quanto riguarda la Roma in attesa del bomber di ruolo che dovrebbe essere Antonio Santaniello Antonio Santaniello sì però voglio far notare una cosa nella classifica capocannonieri per la Roma ci sono due giocatori ex Manchester United quindi è per questo che io dico che la Roma attualmente non merita di essere un'altra volta coinvolta in quella lotta per l'Europa League perché se una squadra che per due anni consecutivi va a fare la finale di Europa League senza mai cambiare il roster come la Roma oppure puntellandolo con uno due pedine ma sempre abbastanza coerenti nel progetto tecnico oggi mette altri due giocatori di assoluto profilo come Irollo e Santaniello e acquista un altro bomber un altro Santaniello Antonio che comunque è un giocatore di assoluto profilo va di per sé secondo me è abbastanza logico che la Roma non debba più essere confinata alla realtà dell'Europa League ma le appartenga più la Champions League e andare a fare bella figura in Champions League dopo cinque anni di militanza in questo trofeo è penso coronamento di un progetto portato avanti dal presidente Gian Paolo Cassese che è un passo assolutamente da farsi una squadra che non ti aspetti al quinto posto Fiorentina che vince contro il Novara un finale di gara molto caldo soprattutto per lo spogliatoio piemontese con le urla del gatto del Giacco con i suoi miagoli che arrivavano fino al parcheggio la Fiorentina intanto con Armando Napolitano con questa squadra questo collettivo di amici sei punti importanti sempre in ottica salvezza per una matricola che a tutti gli effetti finora sta facendo una bellissima figura meno male che la Fiorentina è riuscita a raddrizzare il tiro perché non mi ricordo chi al centro sportivo Maracanà disse la Fiorentina è una squadra che può fare di più può fare molto di più però ha bisogno un attimo di capire bene le dinamiche della Serie A la prima giornata fu preoccupante 7 a 0 7 a 0 fu abbastanza duro come risultato e soprattutto fu una vera propria dimostrazione di forza del New Saints verso una maltrattare una matricola in questi termini fu abbastanza clamoroso anche perché la Fiorentina non è che ha un roster da buttare via è Nuziata un buon portiere Zorzetti Zorzetti tra i pali ha giocatori comunque di profilo e quindi fu per questo che qualcuno iniziò a un po' preoccuparsi negli ambienti viola invece ci troviamo a commentare due giornate dopo una Fiorentina che obiettivamente ha portato poi due vittorie a casa al netto di quella brutta sconfitta quindi vuol dire che la Fiorentina come squadra c'è ovviamente non penso abbiano pretese di fare chissà che campionato di vertice anche perché la concorrenza lì su è agguerritissima però almeno portare a casa una giusta salvezza un'ottima salvezza e chissà magari provare a centrare un bello obiettivo che è quello dell'Europa League che non è da buttare via secondo me per una squadra neopromossa come la Fiorentina Tutti obiettivi molto interessanti e soprattutto stimolanti da qui al termine della regular season Marco in queste prime giornate di campionato compresa anche la partita di Supercoppa qual è la squadra avversaria che hai visto meglio giocare contro il CSKA Mosca? Con il CSKA noi abbiamo giocato la partita con l'Inter comunque è stata difficile sia in Coppa che in campionato più in campionato partimmo in partimo male poi sotto 3-0 se non ricordo male poi dopo riuscimmo a rimetterci in carreggiata e a portare a casa i tre punti perciò dicevo prima che l'Inter alla fine ritornerà ai posti che gli competono Inter che quindi potrebbe ritornare Isidoro in chiusura in conclusione per quanto riguarda la Serie A prima il nostro operatore protempore Marco Adinolfi faceva la foto alla classifica ma con quest'Inter all'ultimo posto diciamo che c'è poco da fotografare al momento no no c'è da fotografare perché questo poi è un evento storico vedere l'Inter l'ultimo in classifica è motivo di gaudio di gioia per qualcun altro ciao Matteo e quindi comunque è una fotografia importante della situazione in Serie A anche questo Napoli comunque secondo me non merita l'ultima piazza in classifica giocatori come i fratelli Adeo il buon Carmine D'Andrea che è comunque un buon calciatore un buon calcettista Mario De Simone che in questa gara se non mi sbaglio era squalificato sono giocatori che come quintetto base possono starcela grandi in Serie A però 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 è lì in fondo però abbiamo affrontato insomma tutti gli argomenti per quanto riguarda la Serie A ha parlato delle 16 squadre chi se la passa peggio e chi se la passa meglio invece al primo posto a punteggio pieno adesso è il momento di spostare la nostra lente di ingrandimento direttamente al centro sportivo Maracanà ci sono i contenuti per quanto riguarda la classe regina e dopo apriremo l'ampia parentesi dedicata ai cadetti del Trofeo Jack con la Serie B La terza giornata di campionato per la Serie A del Trofeo Jack conferma le sensazioni della prima ora per gli addetti ai lavori e gli aficionados del calcio a 5 la questione primo posto è al momento un discorso a 4 fra compagini molto preparate per il livello del torneo partiamo dal New Saints Vittoria che fa rima con Volonnino che fa pezzi un giammalconcio Aeduk Spalato col punteggio di 8 a 3 risponde per le rime il Foggia l'impegno con l'Arsenal non è dei più facili ma per Esposito e compagni il definitivo 9 a 5 conferma la terza vittoria in altrettante gare il Lecce impatta bene il Trabzonspor e su dalla vittoria contro i turchi che dovranno fare a meno di Capitano Vino nel prossimo turno mentre il CSK Mosca a tavolino e con zero sforzo guadagna 3 punti contro il Nola la classifica rischia di staccarsi fin da subito in due tronconi e prova a smentirci la matricola fiorentina il team capitanato da Armando Napolitano maltratta il Novara 6 a 3 forte flessione dei piemontesi che nonostante gli ingressi in sede di mercato stentano a decollare in termini di punti come in termini di gioco e le sfuriate del gatto del Jack nello spogliatoio sono inequivocabili prima vittoria in Serie A per il Borussia Dortmund 10 a 2 contro il Napoli e primi tre punti anche per la Roma storicamente l'impegno con il Valencia ha sempre regalato poche gioie al collettivo di Patron Cassese ma questa settimana arriva il rilancio in graduatoria con il bottino pieno flessione per il Valencia e di contraltare non ride neanche l'Inter sconfitta col Miluol e Nerazzurri che brancolano ancora all'ultimo posto in graduatoria Siamo in compagnia della Fiorentina Napolitano e Gaetano mentre sentiamo arrivare delle urla poco confortanti dallo spogliatoio del Novara di fronte c'è quello della Fiorentina c'è tanta gioia vittoria per 6-3 oltre tre punti in campionato che fanno sempre comodo visto questo inizio di stagione quello che è importante è il gioco dimostrato il carattere il cuore della Fiorentina che si presenta con tanti elementi fra campo e panchina e riesce a raggiungere una vittoria importante contro una squadra come il Novara che non è la prima volta che gioca in Serie A Sì infatti allora buonasera innanzitutto è stata per me secondo me questa terza partita di campionato è stata la migliore direi fino ad oggi anche perché non ci conoscevamo bene ci stiamo iniziando a conoscere quindi vedo che la Fiorentina il nostro obiettivo è quello di salvarci e se continuiamo così penso che potremmo riuscirci è arrivato un ottimo risultato contro il Novara come hai detto tu prima che già gioca da alcuni anni in Serie A e niente ci fa piacere per la vittoria tutto qui Luciano questa squadra può ancora fare dei miglioramenti insomma ho visto quello che è stato dimostrato in campo oggi c'è già un buon livello di gioco per la Fiorentina già c'è un buon livello di gioco e possiamo ancora migliorare Armando battuta conclusiva una terza partita e settimana dopo settimana si può sempre fare di più per questa squadra e soprattutto per il campionato visto che ci stanno anche delle partite poco facili insomma che attendono la Fiorentina Sì certamente la Fiorentina io ci tengo a precisare che è un gruppo per divertirsi quindi questo è già importante perché giornata dopo giornata si può vedere in panchina quanti componenti siamo abbiamo sempre difficoltà a fare le convocazioni che ce le faccio io personalmente ad ogni giornata il gruppo mi permette sempre di mettermi in difficoltà però penso che se continuiamo così ci prenderemo delle belle soddisfazioni siamo con Ambrosino del Borussia Dortmund finalmente tre punti si inizia a muovere questa classifica e la salvezza sembra più vicina sì dobbiamo entrare un po' in forma anche se è una parola un po' difficile si vede un po' dal fiato è stata una partita dura il Napoli penso che dieci anni fa se giocavamo contro di loro perdevamo 100 a 0 perché è una grande squadra ora sono tutti ex giocatori perché veramente sono bravi però diciamo che noi avevamo più freschezza più agilità nei contrasti e abbiamo vinto una gioventù che può esservi comunque d'aiuto perché comunque siete una bella squadra sulla carta e forse manca un po' di coesione un po' di quadratura anche nel campo che è più grande rispetto alla Serie B da dove venite sì diciamo che siamo piccoli però purtroppo le squadre piccole contro le grandi fanno un po' fatica per molti fattori e quindi sarà dura ancora di più che Borussia ci crede a questa salvezza? speriamo la Serie B comunque è sempre bella cerchiamo di rimanere in A e vediamo un po' questa scalata verso il quarto ultimo posto visto che c'è classifica di salvezza noi volevamo vincere il campionato però si suda troppo per vincere siamo con Paribello una vittoria che serve a muovere la classifica perché voi eravate in una situazione diciamo non molto semplice dopo le prime partite e vincere contro queste Inter condanna a questo punto le squadre dei gemelli sia l'Inter che il Valencia a fare una zona di retrocessione che non vedevamo da tempo sì sicuramente è stata una bella vittoria contro una squadra che ormai qui insieme al Valencia altre due squadre fanno la storia comunque del trofeo Jack ha fatto pure morale perché comunque le prime due partite siamo venuti un po' rimareggiati con un nome organico quindi fa bene questa vittoria sofferta abbastanza sofferta si vede che sofferta perché sei ancora bello affannato Paribell alla fine non voleva poi entrare magari potevamo chiuderla prima ma parecchi errori miei hanno permesso di tenere in gioco anche fino all'ultimo l'Inter meccanismi che vanno rodati l'anno scorso siete stati protagonisti di un bel percorso voi che eravate una neopromossa siete arrivati fino alla Champions League e poi avete ovviamente affermato il vostro percorso ma era totalmente positivo quest'anno una partenza un po' a rilento ma qual è l'obiettivo? l'obiettivo è lo stesso anzi migliorarci se è possibile il percorso dell'anno scorso magari venire fino a aprile-maggio appena organico come stasera 3 vittorie su 3 per questo Foggia stasera una gara contro l'Arsenal che si era comportata bene nelle due precedenti uscite il primo tempo l'avete chiuso 6 a 0 se non sbaglio il secondo tempo hanno dovuto fare il prossimo momento per farvi qualche gol ma alla fine non c'è mai stata partita sì come detto è stata una partita abbastanza dominata già da primi minuti purtroppo sono le solite complicazioni che avvengono nel calcio a 5 un episodio una palla sporca e si rischia di di recuperare una partita che sembrava già vinta però abbiamo saputo gestire il risultato e portare a casa la terza vittoria consecutiva come è stato il tuo minutaggio stasera soprattutto è stato più fruttuoso di quello di settimana scorsa che contro il Valencia è fatto un po' un po' ridere va bene l'importante è giocare tu con l'Inter giochi e perdi io non gioco io gioco e vinco pure che faccio pochi minuti do una mano alla squadra a respirare perché comunque il nostro quinto è titolare penso che non è secondo quasi a nessuno ti faccio respirare gioco mi diverto mi diverto a guardare tu purtroppo non giochi e guardi perdere è vero però è vero anche che la volta scorsa ha fatto fare 5 gol in 5 minuti al Valencia è vero Peppe? si si è molto vero Giovanni la scorsa settimana ha fatto una bella pericola di paura ultimi 5 minuti lo dovete centillinare ormai no no veramente stavo facendo recuperare anche l'arsenal oggi oggi è appena entrato abbiamo subito 6 gol no ma a partire tutta la squadra come l'hai vista girare adesso era cosa è completo oggi no abbiamo fatto un'ottima partita già dall'inizio subito abbiamo messo le cose in chiaro infatti il primo tempo è finito 5-6 gol avanti noi cerchiamo di vincere tutte le partite ogni partita che viene cerchiamo di vincere c'è anche qui Raffaele Esposito grande assente della partita contro il Valencia qualcuno ti ha pagato per non farti venire la vostra scorsa volta no non mi serve venire contro Matteo cioè è proprio facile abbiamo fatto giocare Giovanni per far recuperare stasera era importante contro l'arsenal perché sono una grande squadra e siamo con la tua ex squadra la mia ex squadra grandi amici soprattutto però Giovanni ha messo il suo tassello anche stasera sempre vincente il tuo Foggio vincerà la Serie A come ha vinto l'anno scorso la Serie B è molto difficile la Serie A non è come la Serie B però noi ci proviamo proviamo a dare un'altra soddisfazione al Presidente Bernardo il Vicepresidente Giovanni Bernardo non c'era hai fatto tu da Vicepresidente sì Bernardo è impegnato in un altro torneo molto più serio del Trofeo Jack e infatti ha preferito l'altro torneo piuttosto che questo sono otto anni che non abbandoni il Trofeo Jack come mai? non trovi niente di peggio? io sono diciamo un veterano del Trofeo Jack ho vinto appunto un campionato con l'Everton facendo un piacere non mi ricordo se a te o a te e quindi abbiamo sempre detto la mia e mi trovo bene qui Rieccoci in studio dopo lo spazio dedicato alla Serie A è il momento di approcciare la categoria cadetta del Trofeo Jack con la terza giornata che va agli archivi vediamo con quali risultati attraverso le grafiche per la terza giornata Acragas Manchester City 7 pari Olympique Marsiglia contro Empoli 3 a 2 Leicester Ternana vittoria esterna per 12-6 Atalanta Olympique Lione 8-0 Chievo Verona che vince 9-7 con il Celtic mentre anche vittoria esterna è quella del Genoa contro l'Ajax per 12-6 vediamo anche la classifica che si è sviluppata finora solo il Genoa a punteggio pieno con 9 lunghezze guadagnate finora Ternana ed Acragas 7-0 Atalanta Chievo Verona Olympique Marsiglia 6 punti apre la parte destra della graduatoria il Manchester City non coabitazione con l'Ajax a 4 Olympique Lione 3 Celtic Empoli e Leicester 0 punti diamo anche un rapido sguardo ai marcatori del momento con Carmine Napolitano della Ternana 11 gol primo della classe mentre invece c'è Felice Tortore e Felice Foglia del Genoa 10 reti a testa 9 reti per Giuseppe Napolitano del Celtic Giovanni Spiezia del Manchester City insieme al compagno di squadra Valerio Esposito 8 segnature Luigi Pignatelli Francesco Ambrosino dell'Ajax Arcangelo Pedalino dell'Olympique Marsiglia mentre 7 gol per Carmine Papa della Ternana torniamo in studio perché ci hanno raggiunto due super ospiti a farci compagnia proprio due grandi cannonieri come si è noto anche attraverso la classifica marcatori dice Felice Foglia del Genoa benvenuto buongiorno e Giovanni Spiezia del Manchester City benvenuto al salotto grazie dell'invito buongiorno a tutti Felice una partita contro l'Ajax un autentico derby per il Genoa che termina 12-6 la forza della squadra come si è detto spesso al campo ma com'è stata questa partita vissuta proprio sul campo questi 50 minuti di sfida fra amici e conoscenti praticamente infatti infatti perché ci conosciamo tutti siamo tutti di casa marciano e negi giochiamo contro e insieme da tantissimi anni sia con gli avversari con l'Ajax i ragazzi dell'Ajax non parliamo del Genoa perché comunque sono quasi 30 anni che giochiamo insieme è importante che ci continuiamo a divertire come stiamo facendo come mai la scelta del Genoa come squadra da rappresentare al trofeo Jack c'è qualche storia recente oppure comunque è stato un po' casuale no no tutto casuale praticamente quando abbiamo deciso di partecipare dei nostri amici sono andati e sponsor sono andati al campo e si sono presentati praticamente con le divise del Genoa però per noi il Genoa qualsiasi squadra per noi è uguale noi ci date un campo e un pallone e noi ci divertiamo basta poco insomma per mantenersi in attività perché si parlava anche prima a microfoni spenti felice che comunque il trofeo Jack ma in generale i tornei permettono anche di vivere qualche momento di attività fisica un po' meno noioso rispetto magari a fare allenamento in vista poi del fine settimana infatti infatti noi cioè noi purtroppo cioè per fortuna purtroppo diciamo ci dobbiamo distrarre dalla vita quotidiana di tutti i giorni i figli a casa allora preferiamo preferisco anche gli altri ragazzi preferiamo andare a fare diciamo a stare tutti insieme al campo a una partita anziché fare l'allenamento oppure stare nelle mura di casa diciamo è importante che scappiamo da casa ogni tanto ma questo Genova sta anche scappando in classifica primo posto nove punti già più due rispetto alle prime inseguitrici questo diciamo che non ce l'aspettavamo nel senso che noi stiamo puntando per divertimento per divertirci questo è il primo obiettivo nostro noi siamo tutti ripeto tutti i ragazzi che ci conosciamo da tanti anni che già frequentiamo tornei in estate insieme infatti ci beccavamo sempre in estate per fare i tornei ma quest'anno abbiamo deciso di partecipare a un campionato intero per metterci anche in discussione proprio per prendere cioè un entusiasmo per fare qualcosa di nuovo ecco per stare insieme in verità insomma durante i tornei estivi c'è sempre modo di incrociarsi fra persone appassionate immagino che molto spesso ti capita anche di incrociare Giovanni Spiezia prima ne stavate parlando insomma a microfoni spenti che comunque amici colleghi calcettisti in comune diciamo che nel corso degli anni ci stanno diversi aneddoti simpatici che vi stavate un pochettino ricordando a vicenda sì sì infatti non lo conoscevo personalmente però conosce Giovanni conosce i ragazzi della squadra che si sono incrociati negli altri in passato negli altri anni ma questo è anche uno spunto per conoscere noi nuove persone per stare insieme cioè quello del calcio è questo sì alla fine è questo è importante che si gioca e si sta insieme tranquillamente senza nessun tipo di problema il calcio e aggregazione come anche dimostra il Manchester City Giovanni Spiezia ben ritrovato al trofeo Jack fra l'altro dopo l'esperienza l'anno scorso con l'Arsenal lo Shakhtar Donets un paio d'anni fa adesso questa nuova esperienza che si chiama Manchester City raccontaci un po' come è nata questa squadra e soprattutto anche la scelta del Manchester City a cosa è dovuta allora abbiamo scelto il Manchester City perché diciamo a me gli altri amici che abbiamo creato la squadra seguiamo molto Peppo Guardiola quei giocatori che hanno questa tecnica soffina come Davide Silva ed altri del Manchester City quindi diciamo appassionati di Premier abbiamo scelto il City come squadra è nata diciamo come divertimento volevamo un torneo serio per poter stare una serata insieme poi man mano abbiamo cercato di creare una squadra sempre più competitiva infatti non vediamo l'ora di riunirci tutti quanti insieme per ridurre quanto prima possibile ecco il gap che ci divide dal Genova dell'amico Felice e magari ho visto dalla Ternana ed altre squadre comunque ben attrezzate noi cerchiamo di dare il nostro meglio vogliamo rosicchiare i punti a più presto magari già dalla prossima l'Atalanta a 6 punti magari già vincendo cominciamo a superare qualcuno anche perché al momento la classifica pone il primo posto in graduatoria il Genova con 9 punti al primo posto però della parte destra ci sta il Manchester City quindi dipende anche uno come la vuole vedere questa classifica ma intanto proprio per il Manchester City c'è stato il pareggio contro l'Akragas che adesso si trova al secondo posto insieme alla Ternana che partita è stata anche perché 7 pari non è un risultato banale è stata una partita molto dura in realtà loro sono partiti molto forti ci siamo trovati sotto se non erro di due o di tre gol poi abbiamo fatto quadrato intorno a noi abbiamo cominciato a giocare ad imporre comunque il nostro gioco fatto di tanto possesso valla e infatti con azioni abbastanza mirate sai con pochi tocchi andiamo in porta e poi alla fine vedo comunque il bicchiere e mezzo vuoto perché a pochi minuti dalla fine eravamo sopra 7 a 6 e abbiamo pareggiato comunque do merito anche alla Calgrassi che ci ha creduto fino alla fine ed ha portato un punto a casa per me ti ripeto il bicchiere e mezzo vuoto e guardiamo alla prossima cioè a dire che finora il Manchester City si è presentato sempre a livello di elementi magari mancava un cambio una sostituzione sempre le stesse persone nelle prime tre partite quindi c'è una lista ancora da riempire insomma perché alla fine si possono schierare fino a 12 giocatori diversi il Manchester City se non mi sbaglio si trova a 6 7 massimo schierati in campo il mio ramarico è proprio questo qua per questo ti dicevo non vedo l'ora di riunire tutta la squadra infatti già dalla prossima dovremmo avere giocatori che per noi veramente sono importanti come Salvatore Longobardi un ragazzo che comunque ha fatto la nazionale del 18 un calciartista comunque affermato che per cose sue non ha più continuato mi manca non è potuto ancora venire a giocare Federico Illiano che comunque è un calciartista che in campagna ha dato il suo sono tutte persone che ci fanno fare sicuramente il stato di qualità che ci può permettere di andare a giocare alla pari con il Genoa e con le altre squadre che ci stanno sopra Felice qua il riferimento è diretto anche perché anche il Genoa finora si è presentato sempre bene o male con gli stessi volti noti al campo hai qualche altro asso nella manica qualche altro giocatore pronto a scendere in campo noi c'è una mentalità diversa noi siamo come bambini non ci dovete togliere il pallone perciò noi saremo sempre questi fino alla fine secondo me ci manca ancora qualcuno perché abbiamo Gianni Rosa un altro ragazzo che non è mai venuto perché comunque gioca in prima categoria a casa marciana però che è Vincenzo Conippo che non è mai venuto però siamo questi qua perché noi dobbiamo giocare noi noi fino in fondo perché siamo persone comunque seri nel mondo diciamo del calcio perché comunque decidiamo di partecipare a un campionato e vogliamo giocare noi perciò noi saremo penso sempre sempre questi qua e noi sì stiamo vincendo siamo contenti vado a vedere come i bambini alla classifica cioè giustamente vogliamo vogliamo fare bella figura perché comunque non vogliamo perdere però comunque e ce la metteremo tutte per vincere tutte però non è la prima cosa ecco non è la cosa fondamentale ci sta anche ci vogliamo divertire c'è anche un forte stimolo perché comunque incontrare avversari di questo spessore sai che ti viene a fare una bella partita esatto sicuramente perché loro hanno uno spirito diverso poi giocano tutti a calcetto noi tranne Felice e Peppe Vittorio Felice Duttora cioè noi siamo Peppe di pallone io e Valeria per il calcio a 11 poi comunque l'età noi siamo andati oltre cioè noi siamo andati oltre i 40 perciò infatti al secondo tempo stiamo mollando un pochettino su questo bisogna lavorarci penso però mai però mai non può fare niente un'altra squadra composta da persone che hanno giocato e continuano a giocare tuttora parecchio calcio a 11 è il Lecchievo Verona il Genova ci ha giocato contro però è un gruppo che forse forse ancora deve trovare un po' di amalgama e unirsi e compattarsi proprio come squadra com'è stata la partita con il Lecchievo è stata una bella partita innanzitutto poi sono tutti amici perché l'ho beccato tutti a giocare a calcio abbiamo giocato contro a calcio con Ennio Zero abbiamo giocato anche insieme Nenola secondo me è stata proprio quella la differenza che loro comunque il calcetto e il calcio me lo puoi dire è totalmente diverso totalmente sono due sport completamente diversi io parlo trovo le difficoltà nel calcetto anche come caratteristiche sono caratteristiche completamente diverse che non sono un tecnico cioè io purtroppo giocavo solo di forza però giocando tutti tutte le stati tutti i tornei a calcetto poi con i ragazzi bene o male ci sto a livello amatoriale ci sto in un campo da calcetto però con il Chievo secondo me proprio il fatto di essere squadra ecco di stare insieme poi erano si sono presentati in dieci cioè non è facile fare i campi giusti cioè qua è tutto un secondo me un particolare fondamentale cioè il fatto di fare i campi giusti nei momenti giusti per cambiare la partita qua basta una sostituzione sbagliata vai sotto poi è difficile recuperare sì un campionato molto competitivo Giovanni finora in queste prime tre partite qual è la squadra che hai affrontato che ti ha impressionato maggiormente e quali secondo te in questo campionato può fare la differenza delle tre che ho affrontato beh sicuramente la Cagras ci ha messo più in difficoltà che comunque la prima partita siamo arrivati contro l'Olympic Marsiglia arriviamo un po' al campo un po' così disorientati poche persone ci troviamo di fronte un giocatore molto bravo il numero 10 non mi ricordo il nome dell'Olympico Marsiglia Pidalino dovrebbe essere devo dire la verità tecnicamente veramente bravo e infatti ci fece 4-5 gol se non erro però eravamo un po' così sicuramente l'Acagras l'ho vista superiore alle altre due che abbiamo affondato quindi Lecce e l'Olympico Marsiglia e l'Acagras comunque anche se tecnicamente non l'ho vista fortissimo la metto lì in alto fino alla fine sicuramente a giocarsi i primi posti magari non la vittoria principale ma un buon piazzamento playoff poi i playoff sono partite a parte quindi altri stimoli altre motivazioni la può vincere chiunque può vincere chiunque soprattutto può succedere di tutto al trofeo Jack come stiamo scoprendo nel corso di queste prime giornate dopo aver affrontato gli argomenti principali insieme agli amici del Genoa e del Manchester City qui in studio è il momento di spostare anche l'attenzione direttamente al centro sportivo Maracanã con i contenuti raccolti sul campo per questa terza giornata di Serie B dopo apriremo una parentesi dedicata alla Serie D alla Serie D alla ASD Jack Maracanã la Serie B che non va che non va oltre il pareggio nella tignosa sfida con il Manchester City 7-7 il risultato finale figlio di una sfida equilibrata che conferma il ruolo di Mina Magante per gli azzurri inglesi ad approfittare del pareggio dell'Akragas e anche la Ternana che aggancia al secondo posto gli agrigentini grazie alla roboante vittoria contro il Leicester un super carmine laporitano mette a segno sei marcature che lo aiutano a conquistare momentaneamente il trono di capocannoniere Leicester fermo ancora a zero punti così come l'Empoli i toscani perdono per 3-2 la nervosa sfida contro l'Olympic Marsiglia restando fermi in fondo alla classifica e così il derby tra Foxis e Empolesi della prossima giornata avrà non solo il sapore delle sfide in famiglia ma anche quello della rivalsa per due squadre ancora ferme al palo roboante affermazione dell'Atalanta che schianta per 8-0 un inerme Olympic Lione orfana del bomber Alfano sposito e vittoria con tre segnature a testa regolano i francesini e portano i nerazzurri al quarto posto in classifica in coabitazione con il Chievo i clivenzi hanno la meglio nella dura sfida con il Celtic terminata con il punteggio di 9-7 un risultato che rilancia le ambizioni degli uomini del presidentissimo Malagnini dopo la sconfitta nel big match con la capolista Genoa a trascinare giallo-blu un Luca Ottieri formato maxi con il solito brancato a sigillare un successo che cementa l'alta classifica della sua squadra Siamo in compagnia di Esposito con la Ternano una dimostrazione di forza contro il Leicester stasera ma questo inizio di campionato ha dimostrato che la Ternana c'è e soprattutto può dar fastidio e può dar battaglia insomma a chiunque avversario per questa Serie B di quest'anno Sì cerchiamo di non montarci la testa è stata una dura partita siamo stati un po' distratti all'inizio abbiamo preso un paio di gol per distrazioni difensive però abbiamo ci siamo ordinati in fase difensiva e siamo ripartiti a testa alta per portare questi tre punti a casa La Ternana è prima di essere un gruppo di giocatori una squadra un gruppo di amici quindi c'è anche quella goliardia quella capacità di ruotare in campo e questo a quali risultati può portare giornata dopo giornata essere un gruppo di amici prima ancora di essere una squadra Sì noi oltre ad essere una squadra come hai detto tu siamo amici anche all'esterno del campo diciamo ci frequentiamo sabato venerdì tempo libero siamo tutti insieme cerchiamo di ruotare per far giocare tutti e divertirci tutti insieme Siamo in compagnia di Fabrizio Mazzeo il Chievo che vince anche stasera nonostante uno scompenso numerico all'inizio com'è la storia com'è la situazione raccontaci Abbiamo iniziato in tre in tre perché non so i nostri componenti capitanati da Danilo Rucco si presentano dopo un'ora sul campo non si sa perché perché veniva da Marigliano hanno giusto la strada per intemperie e quindi ha preso la tua strada e sta lanciando la crostadina in macchina tra l'altro io non c'ero quando abbiamo iniziato quindi c'era Ciccio Monda in abiti civili che ci ha dato una grande mano anche all'ultimo quando Danilo Rucco appunto si è fatto male perché la crostadina ha fatto effetto quindi una situazione abbastanza difficoltosa infatti tu stavi commentando la partita del Borussia Dortmund insieme a noi in cabina di commento forse quindi hai perso di vista all'orario di inizio della gara del Chievo no in realtà io già ero in abiti da calcetto però non sapendo le nuove regole del trofeo dei gemelli mi sono trovato un attimo in difficoltà perché arrivi sul campo alle 10 e giochi alle 11 allora col fuso orario mio i miei soliti 10 minuti di ritardo sono andrati in campo in temporario ingiusto passando passando poi alla sfida 5 contro 5 è stata comunque una partita difficile come è andata? in 5 contro 5 c'è stato da recuperare perché 4 gol di cifantaggio contro una squadra tra l'altro il primo tempo molto organizzata è stata bella dura poi i nostri campioni Ottieri e GB8 Brancato sono usciti fuori e stiamo riusciti a recuperare è stata molto 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 difficile le prime due giornate di campionato un bello organico con tante sostituzioni oggi un po' più in difficoltà però per le prossime bisogna avere almeno qualche uomo in panchina per riuscire insomma a rifiatare ti vediamo abbastanza sfinito tu che in genere hai 7-8 minuti nelle gambe diciamo che oggi i 7-8 minuti si sono moltiplicati però devo dire che in 5 si gioca molto meglio infatti dalle telecamere di videonola si potrà vedere come abbiamo giocato in modo esemplare passaggi di prima tante belle azioni si sono entrati con la palla in porta quindi meglio in 5 che in 9 così gioco anche 50 minuti sono in grado di giocare 50 minuti hai capito? Ciccio Monda gioco 50 minuti un pareggio all'ultimo respiro il Jack Maracanara giunge nel recupero il club paradiso Acerra al termine di una gara dei due volti che i padroni di casa hanno prima dominato e poi quasi persa i ragazzi di mister Nello Laura al debutto assoluto nel campionato FIGICI di serie D di calcio a 5 partono bene contro una compagine esperta con giocatori anche di categoria superiore il Jack Maracanà passa in vantaggio al dodicesimo con onorato su schema da calcio d'angolo i bianchi acerrani reagiscono ma i gecchini passano ancora con una bella combinazione chiusa alla grande da boccia gli ospiti riaprono la gara allo scadere della prima frazione con un rigore trasformato in maniera impeccabile da capitano Barbato un penalty provocato da un fallo di mano di boccia espulso per evitato il gol degli ospiti la ripresa comincia con il club paradiso acerra all'attacco fermato dall'ottimo capitano di casa a canito il Jack Maracanà spreca l'impossibile con onorato e coppole subisce il sorpasso con una splendida punizione di Barbato ed un gol dalla distanza di Piscopo il Jack Maracanà accusa il colpo e sbanda ma non esce di strada attacca a testa bassa e raggiunge il meritato pareggio a tempo scaduto con un'azione rocambolesca cominciata da Ferrara è l'ultimo sussulto di una gara dei due volti e tante occasioni sciupate da entrambe le parti un pari ottimo per cominciare bene la stagione per il Jack Maracanà di mister Nello Lauro che domenica prossima sarà di scena ad Aversa contro il Casaluce che ha sbancato nel frattempo il campo dello Sporting Tiger a Cerra per com'è arrivato è un punto diciamo sudato per com'è arrivato non mi è piaciuto la squadra ha giocato malissimo abbiamo conceduto tutto quello che potevamo concedere siamo stati in vantaggio ancora una volta 2-0 ci siamo fatti rimontare ancora una volta stavamo per perdere poi abbiamo avuto abbiamo avuto un guizzo e abbiamo pareggiato all'interno di una partita dove abbiamo fatto un oceano un oceano di errori di misura non abbiamo mai passato sul secondo palo tutti errori di impostazione errori tecnici errori di misura così non andiamo proprio da nessuna parte Rieccoci in studio prima della conclusione c'è spazio anche per parlare della serie di vediamo rapidamente la composizione del girone attraverso il calendario che parla di una prima giornata che vede affrontarsi guappa sinuessa contro atletico marcianese jack maracanà club paradiso a cerra montemaggiore futsal contro procida futura real liternum contro afroditea line sparta contro futsal soft marine e sporting ticre a cerra che giocherà contro il gruppo sportivo casaluce calcio a 5 questa è la composizione del girone per la sd jack maracanà per quanto riguarda la serie di regionale di calcio a 5 e ne parliamo rapidamente in compagnia di marco adinolfi che ci ha raggiunto proprio per parlare di questo girone 12 squadre per 11 giornate d'andata relative a 11 giornate di ritorno sarà un campionato molto lungo con delle avversarie molto interessanti qualcosina si è già scoperto nel preseason buonasera a tutti è partita questa avventura è ufficialmente partita questa prima avventura per il jack maracanà in una lega nella lega nazionale di lettanti nella cgc una nuova esperienza ne abbiamo parlato in queste due settimane con il mister nello lauro è stata sicuramente una sarà sicuramente una novità una grande innovazione per il trofeo jack se mi consente secondo me la la cilegina sulla torta quello che ci mancava in questo in questi otto anni all'ottava edizione siamo riusciti a fare anche questo è un'avventura che si è aperta già con la Coppa Italia come ne abbiamo parlato un pareggio una sconfitta la squadra l'ha presa più come un amichevole alla fine per provare per provare gli schemi essendo una squadra nuova molti non solo calcettisti devono comunque imparare abbiamo fatto anche un amichevole con un amichevole con il club paradiso e quindi è una 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 squadra che che si deve pian piano abituare a questo contesto a questo contesto ad un pallone rimbalzo controllato che è differente da quello che si utilizza durante il trofeo jack ma il gruppo che è quasi totalmente fatto all'interno del trofeo jack attraverso giocatori che settimanalmente si incontrano anche per le sfide di torneo come sta rispondendo a questi primi allenamenti a queste prime settimane sotto le guide di Nello Lauro io vedo un buon affidamento un grande interesse di questi giocatori vengono ad allenarsi sempre al completo eravamo in settimana in 15 addirittura anche il giorno anche giovedì che era festa mezza festa eravamo 15 di noi siamo stati due tre ore ad allenarci addirittura per preparare la prima di campionato è una squadra che ci tiene ci tiene molto i giocatori li vedo molto affidati anche nei gruppi ci tengono forse come giusto che sia anche più dello stesso trofeo Jack serale anche perché questo alla fine in fin dei conti è una nazionale Jack i migliori le ricorette sono stati scelti da mister Nello Lauro ovviamente i migliori che sono tesserabili perché molti comunque giocano in altri contesti c'è qualche giocatore che non fa il trofeo Jack sono solamente due o tre più o meno ma chissà che se non verranno inseriti anche loro in qualche compagine insomma fra le altre cose abbiamo anche osservato un principato che si è allenato a tutti gli effetti con la S di Jack Maracanà sì il principato è un mio grande rimpianto perché era uno dei pilastri deve essere uno dei pilastri di questa Jack Maracanà per il suo sia per il suo talento sia per la sua boggia e per la persona appunto di principato però non può forse almeno per la destra non può essere tesserato perché sta facendo un torneo dove non possono giocare tesserati e purtroppo non ce l'abbiamo c'è c'è un orato della sua presenza in un allenamento siamo stati contentissimi il mister ha anche provato a convincerlo come ha provato a convincere altri giocatori che fanno parte del Jack Maracanà e che sono impegnati in altri contesti insomma qualcuno non voglio fare nomi ma qualcuno c'è stato anche in questa trasmissione insomma prima di me che dire quindi resta da vivere questa stagione che sta per prendere il volo settimana dopo settimana ci saranno tanti aggiornamenti interessanti sì noi abbiamo come hai visto preso il girone con le Acerrane il girone di Napoli non è tanto contento il mister di questa cosa preferiva il girone di Avellino anche per un fatto di chilometri appunto andremo a incontrare squadre che a fare trasferte lunghissime addirittura pure a Procida fortunatamente ci dobbiamo andare una volta ci sono anche gironi in cui addirittura ci sono tre squadre tra Procida Ispia e Solane tre Solane sarebbe stata addirittura una tragedia però sarà sicuramente una bella trasferta quella di Procida che la faremo l'8 giorno dell'Immacolata 8 novembre quindi sarà comunque un'esperienza ci affacciamo come appunto per la prima volta questa esperienza sarà sicuramente bellissimo al di là del risultato ci andremo a affacciare con una realtà nuova poi pian piano prenderemo la mano prenderemo vedremo appunto come ci si trova come si deve fare appunto per vincere più partiti inizialmente il risultato non conta è solamente l'importante è esserci insomma è approcciarsi bene a questa nuova avventura che dire quindi i campionati FGC sono fatti anche di chilometri di trasferte da fare ma soprattutto di squadre che scopriranno la realtà del centro sportivo Maracanà sì tanti chilometri non si gioca solo più al Maracanà come siamo abituati al trofeo Jack ma si andrà a vedere altre realtà altri contesti è bello anche questo vedere gente nuova conoscere gente nuova già il mister del del club Paradiso ci ha fatto i complimenti addirittura anche su Facebook il mister del del tigre acerra già stanno venendo a vedere questa realtà piccola perché è una realtà piccola la nostra che però vuole fare grandi cose che lo sai grande innovazione ci piace sempre stupire non non possono pensarci quando vengono sul campo e vedono la diretta streaming è un'innovazione che in serie D secondo me non fa nessuno la fa solamente il il corner del approfondimento punto 5 ma fare una cosa in serie D è già un'innovazione per tutti poi arriveranno i risultati ma a noi già piace stupirvi con queste cose insomma e noi siamo abituati a stupirci giornata dopo giornata attraverso i racconti del trofeo Jack ma anche attraverso le storie che si comporranno attraverso la SD Jack Maracana noi siamo in chiusura di trasmissione e vorrei ringraziare Marco Di Nolfi che ci ha fatto compagnia sia in veste di operatore in un primo momento che in veste di opinionista per quanto riguarda questa avventura di serie D grazie sono abituato a fare tutto qui negli studi di Vino Nola è sempre un piacere soprattutto al Maracana insomma ci piace il multitasking fare di tutto vediamo gente che mentre gioca va a riprendere oppure mentre gioca va a fare le interviste siamo impegnati in tante cose insomma l'importante è portarle tutte a termine per bene mi preme anche ringraziare Isidoro Tardivo che ci ha fatto la compagnia da opinionista per quanto riguarda la serie A Marco Furino per il CSK Mosca Felice Foglia per il Genoa Giovanni Spezia per il Manchester City un salotto molto corposo ovviamente l'augurio è di proseguire ad osservare i programmi del palinsesto di Vino Nola e anche per questa settimana buon gecko a tutti di Vino Nola